ciao a tutti ragazzi sono loris98 e mister ma dove siamo stavolta? chi lo sa raga noi siamo finiti stavolta siamo nel mercato del pesce nooo allo spaccio vabbè e dove siamo finiti? ma non lo so la zona mia è molto familiare cos'è che c'è un mattitone là? che si porta fuori? perché dwindgarden? nilos che c'entra? secondo me ci siamo teletrasportati in un'altra zona ci siamo forse persi chi lo sa cioè stavolta ragazzi non lo so dove mi portiamo ingresso dipendenti co-work seguiteci seguite amag una grugialla eh una grugialla sui cantieri vabbè e canto oggi e non lo so qualcosa molto strano mi dice che se andiamo a destra arriviamo in un posto molto conosciuto molto conosciuto si 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 può essere? può essere proviamo a girare a destra e vediamo dove è cosa c'è laggiù che vedo? eh 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 cosa ragazzi? cosa? co-co-co ragazzi Ma è lui è lui non è lui È lui È lui ragazzi andiamo allora Ah vuoi andare da qua Così dal fiume Sì sì Vediamo già in fondo Per l'altro ponte Ma giriamo eh È buono in San Francisco Ma stavolta su un altro percorso però eh Se non ti chiede a vedere qualcosa ragazzi Fare un giretto, un po' di mobili Un corso di cosa scusa Un corso di pittura Non ne hanno bisogno Eh sì Vabbè Decisamente Vabbè oggi quindi ragazzi Cerco di impegnarmi di più Anche dei mister Donio mi ha detto attenzione Io sono freschissimo Oggi ho detto attenzione Perché potrei aprire con uno strike È fresco anche degli tipe Quindi mi ha detto che lui è fresco anche di mai ragazzi Sì sì oggi Sì 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 E pure io Va bene Allora ci vediamo Appuntamento lì ragazzi A dopo Procediamo Prima partita Prima partita Il mister Ciao ragazzi Prima partita Prima partita Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.